Buon mercoledì 24 gennaio. I Club. Una goccia d'acqua in un oceano sterminato caratterizzato da eventi che generano ansia e paura. Il cambiamento climatico, la guerra. Questa mattina ho visto un messaggio su WhatsApp che mi è stato inviato e che evidenziava un passaggio di Papa Francesco che invitava alla preghiera in un tempo cupo, il tempo della guerra. Sì, perché di fatto, lo aveva già affermato anni fa, siamo di fronte a una forma inedita, ma tutte le guerre sono inedite. La terza guerra mondiale che si dispiega in luoghi diversi e rispetto alla quale vi è un arricchimento crescente dei produttori di armi e contemporaneamente vi è anche un'ampia giustificazione per quanto riguarda i despoti che sembrano governare il mondo ma che in realtà stanno facendo semplicemente gli affari loro. E gli affari loro li fanno mettendo in piedi meccanismi che non saziano mai la loro ingordigia. È chiaro che il loro fine ultimo è diventare ricchi in modo smisurato, ma per fare questo devono rapinare le terre che abitano e estendere la loro rapina alle terre altrui. Ci si chiede pertanto com'è possibile che qualche centinaia di malfattori che si sono insediati nei luoghi del potere? Sono pochi. Certo hanno creato un alone grigio, oscuro, fatto di servi i quali spinti o dal desiderio anche loro insano di diventare come loro, oppure semplicemente per il fatto che hanno paura, tengono famiglia come diceva Eichmann al processo che riguardava la Shoah. Quel tengo famiglia che rappresenta, ce lo ricorda Anna Arendt, la banalità del male, la chiusura in se stessi, l'indisponibilità di riconoscere in noi stessi una potenzialità eversiva anche se siamo semplicemente un granello di sabbia o una goccia d'acqua in uno sconfinato oceano che contiene in sé gli elementi del male che caratterizzano l'essere umano. E in quella goccia d'acqua però vi è l'essenza stessa del bene. Certo, parzialmente mescolata anche con i tratti del male, perché anche in quella goccia d'acqua di un clebo, di tante altre forme di protagonismo finalizzato al bene comune, vi è sempre un'istanza che porta a cedere di fronte alla tentazione egocentrica. Io penso per me. Devo cambiare l'altro ma non sono disposto a cambiare me stesso. Sono gli elementi che caratterizzano l'indegna pietanza del capitalismo selvaggio, violento e radicalmente anarchico, cioè non riconosce le radici profonde che intessano la nostra esistenza temporaria su questa nostra madre terra e che vanno oltre la nostra presenza e ci precedono largamente. L'anarcocapitalismo non è nuovo, perché questo caratterizzava anche le dittature del Novecento, dissipative, ostentavano i capi, stili di vita piuttosto sconcertanti e bizzarri, gravi disturbi del comportamento personale caratterizzano i dittatori. Se fossero sottoposti a una serie analisi diagnostica è chiaro che non un solo elemento della diagnostica classica psichiatrica sarebbe applicabile loro ma molti e cadrebbero probabilmente proprio nel campo categoriale dei gravi disturbi mentali e del comportamento. Ma non c'è apparentemente rimedio, in realtà il rimedio c'è e come, e lo cogliamo anche relativamente a ciò che sta accadendo, anche questa è una goccia nell'oceano sterminato del tempo che scorre. Ciò che sta accadendo su una questione che ho già preso in considerazione in questi giorni, la questione della cultura. Ricordo che i club hanno come loro compito, anche se si soffermassero soltanto sulla questione dell'uso delle bevande alcoliche, hanno il compito di cambiare la cultura. Ma cosa significa tutto questo? Che devono essere protagonisti di discorsi teorici, astratti, metafisici ma senza concretezza? Ricordiamoci che Massimo Cacciari ha scritto un bel libro recentemente, la metafisica concreta, cioè, a mio parere, la metafisica, cioè andare oltre il contingente, il materiale che tocchiamo con mano per aprire uno spazio creatore di orizzonte di senso, molto, molto al di là del dettaglio materiale. Tutto questo significa mettere in discussione ciò che noi vediamo, tocchiamo e sentiamo. Molto spesso sentiamo dei rumori, ma non li udiamo realmente, non riusciamo a cogliere le vibrazioni profonde che dovrebbero scuotere la nostra coscienza. Sì, più o meno vediamo, io ci vedo molto poco, ma contemporaneamente risultiamo ciechi relativamente a quello che vediamo. Tocchiamo, questo è vero, ma contemporaneamente siamo radicalmente anestetizzati rispetto a ciò che tocchiamo. L'incontro tra i corpi è sempre più mediato da forme immaginarie che vengono amplificate anche dall'uso degli strumenti che dovrebbero servire a una più efficace comunicazione tra le persone, ma che si sono trasformate in gabbie esistenziali nelle quali prevale appunto la metafisica della inconcretezza, della mancanza di concretezza. Osservate, salite su un tram, su un treno, tutti straimpegnati su quello strumento che chiamare telefono è un po' riduttivo, è qualcosa di radicalmente diverso. Tutti autoassoggettati a ciò che vuole la cultura dominante, a ciò che vuole il mercato, quel mercato che si arricchisce attraverso la vendita delle armi e lo stordimento dei cittadini. Allora, ritorno al fatto che i club siano una goccia in un oceano e immaginiamo che tornino a occuparsi semplicemente solo di alcoli, non dell'alcolismo, anche di quello che viene impropriamente definito l'alcolismo quando la scena diventa tragica ed è correlabile al consumo delle bevande alcoliche. Questo è un aspetto fin troppo evidente, facile tutto sommato da gestire, ma il punto critico è che l'essere goccia ha il preciso significato di dover fare i conti con la interconnessione tra l'uso delle bevande alcoliche e l'oceano sterminato fatto di angoscia, paura, ansia, ecco ansia, paura della guerra, incombono. Ma ci sono anche tante altre paure. La paura di diventare poveri, particolarmente è presente nei paesi ricchi, perché chi è stato già ridotto in miseria molto probabilmente non ha paura di diventare povero, lo è già e cerca disperatamente di transitare verso terre più feconde, nella speranza che si possa trovare sollievo per se stesso, per i propri cari, per vivere una vita più serena, più sicura, affrontare un viaggio della disperazione dall'Africa attraversando il deserto, dovendo incontrare i violenti foraggiati dall'Occidente, campi di tortura, di stupro. Vedete, ci indigniamo giustamente nei confronti dei fatti violenti che accadono nella cronaca quotidiana. Ma quante violenze vengono perpetrate dai custodi dei confini dei ricchi in quelle terre devastate del Nord Africa, la Libia, quanti stupri, quanti femminicidi, ma indignazione zero. Questo è il punto. Addirittura c'è qualcuno che pensa che è bene che sia così, ma come fa poi a indignarsi di fronte al fatto di cronaca? Come fa a ribellarsi a una condizione di violenza sul corpo dei bambini, delle donne? E questo, vedete, partiamo da quella goccia d'acqua che è il consumo delle bevande alcoliche, che diventa molto spesso la colonna sonora delle ritualità dissipative che ingombrano le nostre terre, le nostre città, le nostre vie. Contemporaneamente lo stordimento sensoriale degli esseri umani attraverso le intossicazioni etiliche, o l'uso appunto degli strumenti definiti cellulari, le cellule, la chiusura confinata dentro uno spazio virtuale che non ha nulla di vitale, non ha nulla di autenticamente evolutivo e relazionale, è chiusura sostanzialmente autistica, non tiriamo fuori i chicomori, ADHD, cioè l'ipercinetismo disattenzionante la persona che magari viene evidenziato, indicato dalla scuola, non sta mai fermo, non è attento, non si concentra, ma cosa significa fare queste domande? E quando lo porti dal professionista di turno che cosa fa? E' esattamente quello che aveva sottolineato Jasper, spiega quello che non ha compreso attraverso l'etichettamento diagnostico, ah sì sì, questo è una discalculia, è una forma di ADHD, ipercinetismo, sì tutto vero sul piano della descrizione di quello che non hai compreso. lo spieghi, lo spieghi e cerchi di non mettere in discussione la cultura dominante, sarebbe troppo complicato. Ecco che allora quella goccia d'acqua che affronta il mare oscuro del male generativo di ansia e di paura, di insoddisfazione e di insonnia, di disturbo del comportamento alimentare, perché quel comportamento alimentare deve fare i conti con il tuo corpo e quel tuo corpo è ossessionato da una immagine idealizzata della bellezza, un estetismo astratto che ti impedisce di vivere autenticamente profondamente la vita nella dimensione dell'incontro dei corpi e nella dimensione del dono, anche della sessualità, che è, se liberata da ogni forma di lussuria, come ci ricorda Papa Francesco, è fonte inesauribile di sovversione rispetto a quei condizionamenti nevrotizzanti che caratterizzano lo stile di vita e di comando di quelle decide, forse centinaia di dittatori che occupano spazi pericolosamente, potenzialmente, capaci di devastare ambiente e popolazioni attraverso lo sfruttamento delle risorse naturali attraverso la creazione costantemente di un clima di guerra. Che rapporto c'è tra quella goccia d'acqua che è un club, la quale sovversivamente dispone spazi di liberazione da ciò che è ingombrante. È ingombrante l'idea e la pratica del possedere, è ingombrante la pratica di ciò che noi definiamo la nostra volontà egocentrica, che assorgiamo all'immagine di un successo nella vita, ho fatto quello che volevo. No, ascolta, e fai quello che, ciò che ti trascende, ti spinge a fare, abbandona qualsiasi desiderio insano di appropriarti di spazi e di tempo, vivi nell'allargamento dello spazio e del tempo, vivi in una costante ricerca di armonia con l'universo anche se la nostra esistenza è breve rispetto al tempo che ci trascende e che caratterizza la vita dell'universo. Il nostro universo è uno tra i tanti, miliardi di anni ci hanno preceduto e noi siamo destinati, nella parte ricca del pianeta, a una speranza di vita alla nascita che supera gli 80 anni. Ovviamente non tutti arrivano a questo traguardo, adesso sempre più alcuni e alcune lo superano, arrivano anche a 100 anni, un secolo. Un secolo potrebbe essere un traguardo raggiungibile, potenzialmente, per ciascuno che è nato in una condizione socio-economica particolarmente attenta alla autotutela e l'autopromozione della salute. A mano a mano che questo viene meno, ovviamente i fattori ambientali negativi devastanti e dissipativi rendono la vita più difficile da gestire e i fattori esterni negativi finiscono per rendere difficoltoso il procedere nel corso della vita. Sono argomentazioni che ci portano a quello che è stato definito uno sguardo verso la salute a partire da un approccio di popolazione, non semplicemente attenzione rivolta al singolo, ma evidenziazione come anche la malattia del singolo sia profondamente correlata a ciò che accade intorno, alla dimensione, alla cultura che è la dinamica sociale, economica, spirituale, lo sguardo rivolto al futuro. Questa è la cultura. C'è un gran dibattere nel nostro paese in questi giorni sulla questione della cultura e che cosa sta accadendo, cose già ampiamente viste. I partiti vogliono imporre gli artisti, gli artisti vanno a bussare alla porta dei partiti e dei potentati di turno e chiedono posti di prestigio. È la mortificazione dell'arte. L'arte deve essere libera e liberante, non deve mai essere assoggettata alla dinamica del potere e il potere farebbe bene di fare un passo indietro. I partiti dovrebbero fare un passo indietro e disintossicarsi radicalmente dall'idea stessa di potere. Devono governare, non dominare. Rappresentano i partiti sempre e comunque una minoranza, laddove non esistono di fatto le dittature e sono molte nel nostro pianeta. Guardate che gran parte del pianeta è dominato dall'assenza reale di libera associazione di cittadini. Quali sono i partiti? C'è un signore che comanda nel terrore. Ecco, ho voluto fare questa riflessione questa mattina su, forse molto astratta e confusa per certi aspetti, ma perché dobbiamo predisporci a rivivere l'esperienza del club con la coscienza di quello che dicevo all'inizio, coccia d'acqua in un oceano di disperazione, di oscurità. Papa Francesco invita a pregare. Che significa? Fermarsi, sostare, ma non sostare in maniera introspezionista. Ascoltare. La preghiera è ascolto. È ascolto per i credenti della parola di salvezza. Per i non credenti è ascolto della voce silenziata della natura, della voce silenziata del grido di coloro i quali, e sono tanti, sono forse una maggioranza assoluta, che sono ridotti nella precarietà e nella miseria. Il loro grido si alza ma è stato reso inascoltabile, proprio attraverso l'anestitizzazione dei sensi. Ebbene, i club spengano la colonna sonora devastante dei comportamenti dissipativi, mettano in evidenza il fatto emblematico rappresentato dall'uso di una droga alcol etilico che viene distribuita e incoraggiata nel consumo da un sistema di potere che ha come fine ultimo la concentrazione delle ricchezze nelle mani di pochissimi. 5% della popolazione italiana detiene il 46% delle risorse. 5 miliardari del mondo dominano la scena economica. Adesso basta, ma incominciamo dalle cose più semplici, più terra a terra. Incominciamo da un'analisi critica ad ampio raggio che abbia in sé tutti gli elementi di conoscenza che la scienza può fornirci. Scienza è, attenzione, non quella subordinata agli interessi dell'economia, dell'industria o delle carriere dei singoli scienziati, il carrierismo clientelare che bussa alle porte dell'industria, la quale a sua volta condiziona il potere politico. Così si intrecciano i meccanismi attraverso i quali la scienza perde ogni forma di innocenza e anche di bellezza. bellezza esplorante, il mistero della vita con uno sguardo largamente disponibile alla sovversione. Questa è scienza. Tutto il resto è semplicemente subordinazione, e nell'alcol questo lo vediamo con molta evidenza, agli interessi economici che si intrecciano e danzano insieme agli interessi di carriera. Vedete quanti elementi oggi noi dobbiamo tirare fuori nel percorso del club, nelle scuole, domani? Siamo partiti dalla contemplazione. Rimaniamo su questa prospettiva, scendiamo nella concretezza della vita quotidiana anche nella questione alcologica. facciamo sì che prevalga in primis l'attenzione nei confronti degli stili di vita, della cittadinanza attiva, nella autodeterminazione relazionale degli esseri umani in un contesto comunitario e i partiti, le forme associative. Allontanino qualsiasi prospettiva di voler dominare la libera espressione degli esseri umani, condizionata e vincolanta soltanto dalle ragioni dell'amore, della giustizia e della salvaguardia del creato, che concretamente hanno il preciso significato di rappresentare la dimensione dell'amore, di Eros. Eros, figlio di Poros e Penia, di astuzia ma anche di povertà, la cui bellezza non ha nulla di estetizzante, è vero, autentico, è la sessualità liberata dall'ingordigia, lussuriosa di possedere il corpo degli altri e delle altre, ma contemporaneamente è la sessualità che si costituisce come mistero e come dono, non per vivere un momento estemporaneo di lenimento della sofferenza nella dimensione del piacere, ma di caratterizzare il piacere come motore della vita. Il piacere è inscindibilmente legato all'attenzione nei confronti della dimensione relazionale, è un grande mistero che ci porta alla pratica e al pensiero di ecologia profonda, radicale e integrale. Guardate, anche se siamo solo una voce e ognuno di noi è semplicemente una voce, ognuno di noi potenzialmente può caratterizzare la ripresa di un percorso evolutivo che sgombra il campo dalle tenebre di questo momento di passaggio storico pericolosamente caratterizzato dall'emergere sulla scena mondiale della guerra, di tutti contro tutti e che poi a sua volta si rispecchia nella vita quotidiana della guerra ancora una volta, di tutti, di tutte, contro tutti e contro tutte, generando appunto quel fenomeno devastante dissipativo dell'anarco capitalismo contemporaneo, senza lacci e laccioli per i potenti ma oppressione garantita per coloro i quali sono sottoposti al dominio dei potenti. Basta, incominciamo a dire veramente basta di fronte a tutto questo, ma non basta dirlo, basta non basta dirlo, bisogna agirlo e domani pertanto laboratorio, scuola, ovunque vi troviate, costruiamo in ogni territorio una continuità educativa, sovversiva, pacifica, costruttrice di ponti di pace, testimoniamo anche nella nostra relazionalità, tra club e nella loro autonomia, che costituiscono dal basso il mondo associativo e che però abbandonano quelle ritualità burocratiche che costituiscono gerarchie. Proviamo a pensarci, troviamo l'entusiasmo per farlo e soprattutto cerchiamo di esserne profondamente convinti e la convinzione si genera nella presenza concreta, mai da soli, sempre insieme, ma mai orientati verso una forma di autoassoggettamento e di conformismo collettivo. Dobbiamo trovare la forza che caratterizza anche il pensiero di Simone Weil di andare oltre la persona per poter attingere al mistero, al sacro, alla bellezza della vita e alla sua esplorabile conoscenza, ma mai definitiva conoscenza. Questo allarga il cuore, la mente, ci rende gioiosi e ci rende ovviamente capaci di vivere profondamente l'esperienza d'amore, l'esperienza erotica. Buona giornata a tutte e a tutti.